... Ecco, si torna a giocare il secondo tempo dell'incontro di calcio tra Spartak San Nicola e Borgo 5 Soccer. Le due squadre ricordiamo lo Spartak San Nicola e di San Nicola Manfredi, lo Spartak San Nicola e di San Nicola Vastana, mentre il Borgo 5 Soccer è di Orta di Ategua. Ecco il numero 4, Motta, una serie del triangolazione, che è il numero 5, De Vincenzo, un po' Motta in azione. De Vincenzo, ruba palla, il numero 10, bianco, la sfera termina in fronte, risultato fermo sul 2-1. Bianco Rossi in azione, avanzano, in profondità, in questo caso succede che scivola il calciatore. Tiro, Proia blocca, un'azione che in realtà è stata molto lucida ed ecco in azione di gioco lo Spartak San Nicola in azione. Passaggio arretrato, al numero 4, Motta, bianco Rossi in azione. Proia blocca, un'azione che in attesa è stato molto educata, che circostano il dietro in azioneangeке, Pallonecchi Blocca il numero uno Periodo Pallonecchi 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 Rimessa laterale Ed ecco Gossetto Picino al gol Tiro Blocca Grande parata Suspiro di Bianca Corre l'azione di gioco Squadra di casa San Nicola Palla a terra Di due con la squadra di Orta di Otella in azione Palla fermata Nuova in azione Palazzo laterale destra Pevin Vincenzo Palla di Vincenzo in azione Assaggio arretrato Al numero otto Rossetti Quanto Morta Palla in profondità Tiro finale Tiro finale Vicino al gol C'è l'avanzato Tiro Vicino al gol Pasquarella Deviazione Pomme Flore Gossetto Pallonecchi Fermato Tiro Vicino al gol Rossetti Grande sparta, saluto. Fanno, punizione. Punizione. Polizia. Sinistro. Lancia che termina fuori. Antonio. Poi dopo, balla. Noia, blocco. Take care. Matteo, Matteo. Pagone in gioco. La triangolazione da parte di Pasquarello stava producendo gli effetti favorevoli. Molta. Ancora, mocca. Pagone in gioco. Pagone per il numero 8, Rossetti. Pagone in gioco. Pagone in gioco. quello. Pagone in gioco. De vincenza sul pannolo. Spera che viene bloccata. De Vincenzo. Si cerca nel vento di San Diego. Buonezza. Ehi! 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 Oh! Oh! Ehi! Ehi! Dai, non scena la faccia! Vincenzo! Non scena la faccia. Già una merda in avanti. Ma sì, sì! Mozzò! Dai, a destra! A destra! Esci, esci! Su, su! Siamo su! Siamo su! Gioca! Ok! Vincenzo! Maro! Poi! Ed ecco il pubblico, il pubblico che continua a seguire la squadra dello Spartak San Nicola in azione di gioco. Allora il numero undici vitale. Ma non lo esci dalla squadra! Vai! 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 Su Circontino! Rossetti! Avriano con l'azione! Palla fuori! Vai! 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 Ravani! È possibile non ero basis! Stavo nonco! Amattinho! Sta ora! Lei! Tavamo ora! Ti cercano a mare! Vai! Allora! Ancho! Buongiorno! antal di tao! Polizzi Polizzi Vicino al gol Polizzi Polizzi in azione Tiro finale Palla nelle mani di Troia Apertura sulla sinistra Tiro fermato 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 Tiro fermato